Dall'ultima volta che ci siamo sentiti sono successe due cose che hanno avuto un impatto sulla mia vita quotidiana. La prima cosa è che ho saltato una puntata, un episodio dei tre minuti grezzi. Ieri, volutamente, non ho registrato niente. Ci ho pensato perché la volta precedente mi ero interrogata in diretta con voi sull'opportunità di proseguire questo lungo 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 esperimento che durò ormai da quasi esattamente due anni. E poi ho pensato di fare la prova, vediamo cosa succede se un giorno non lo faccio ed è successo quello che immaginavo, assolutamente niente. La seconda cosa, e questa cosa qua ha avuto un piccolo impatto nella mia vita, cioè ha confermato quello che pensavo. La seconda cosa, il secondo avvenimento che ha avuto un impatto nella mia vita è che da ieri non c'è acqua a casa mia, nel mio palazzo, in tutto il quartiere. Perché a causa di un guasto per strada, ieri pomeriggio è mancata l'acqua. Ed è mancata in modo, diciamo, se deve mancare l'acqua, questo è il modo migliore che manchi. Perché io ero dentro la vasca da bagno piena d'acqua e stavo giusto aggiungendo ancora un po' d'acqua calda alla vasca e si è interrotto il flusso. Però ormai l'acqua era già a un livello più che accettabile, per cui mi sono fatta il bagno. Ho visto che mancava l'acqua e anziché far defluire l'acqua nella vasca l'ho tenuta là per usi domestici, almeno per buttarla dentro il gabinetto. Quindi sì, è da, diciamo, quasi un giorno, adesso che siamo senza acqua, promettono di riparare presto il guasto. Anche se sono leggermente pessimista perché stamattina il vicino di casa mi ha detto che ha visto arrivare le squadre delle persone designate alla riparazione della perdita o del guasto alle nove del mattino. Quindi io era a letto e immaginavo le squadre al lavoro di notte, al buio, quei fari. No, sono arrivate stamattina alle nove, quindi siamo ancora senza acqua. Stamattina mi sono lavate i denti con l'acqua minerale, frizzante. Poi sono scesa giù al supermercato a fare incetta di bottiglie di acqua naturale, almeno per fare il caffè, il tè, se voglio fare la pasta, qualcosa. Sì, adesso aspettiamo fiduciosi che l'acqua torni a scorrere dai nostri rubinetti e questo ci fa ricordare, se ce ne fosse bisogno, quanto sia preziosa l'acqua. Anche se io questa cosa qua la so perché sono cresciuta in una casa antica, senza serbatoio. Ogni estate ci portavano via l'acqua, quindi so esattamente cosa significhi vivere con l'acqua razionata. Per oggi il dispaccio finisce qua. Grazie a tutti.